Ok ragazzi, quando dovete vincere una sporca guerra e per farlo decidete di arruolare i peggiori detenuti delle vostre carceri offrendo loro, a fronte di sei mesi di servizio al fronte, l'immunità, l'amnistia e la cancellazione di tutti i precedenti penali che cosa potrà mai andare storto? Ce lo spiega un'inchiesta giornalistica portata avanti da alcuni volontari i quali hanno passato una valangata di tempo a confrontare l'elenco dei detenuti russi che si sono offerti i volontari per stare al fronte con l'elenco degli indagati slash imputati per reati gravi dell'ultimo anno e mentre hanno effettuato queste verifiche si sono resi conto di un paio di verità scomode la prima del tutto prevedibile è che lo Stato russo non tiene assolutamente traccia di queste situazioni non esistono statistiche ufficiali e verosimilmente mai esisteranno e come se non bastasse gli uffici pubblici hanno preso l'abitudine a nascondere i dati degli indagati e degli imputati fino a qualche mese fa avevi degli elenchi perfettamente trasparenti cosa abbastanza strana in uno Stato come la Russia adesso non hai più questo tipo di indicazione il 13 giugno Vladimir Putin ha incontrato i corrispondenti di guerra del Cremlino e tra le varie domande che gli sono state poste un giornalista ha chiesto esplicitamente che cosa sarebbe accaduto nel caso in cui qualche ex detenuto attualmente eroe della patria fosse tornato sulla cattiva strada Vladimir Putin ha risposto senza mezzi termini che una persona simile dopo aver tradito la fiducia riposta in lui meriterebbe il massimo della pena e che quindi si sarebbe beccato il massimo della pena perché in Russia la parola di Putin non è legge, è di più ma in realtà il presidente ha dato una risposta clamorosamente e palesemente sbagliata perché lui stesso ha conferito non soltanto l'amnistia ma anche il beneficio che peraltro io manco pensavo potesse esistere della ripulitura della fedina penale una riabilitazione totale in termini giuridici riabilitazione che in Italia è possibile chiedere solo quando sussistono alcune condizioni fra le quali il passaggio di tanto ma tanto tempo dal momento del compimento del reato mentre invece Vladimir Putin ha offerto questa riabilitazione a chiunque fosse riuscito a sopravvivere per sei mesi e va da sé che se tu sei stato riabilitato e comunque non ti risulta alcun precedente penale tu non verrai condannato al massimo della pena a meno che naturalmente tu non abbia compiuto un reato particolarmente grave in modo particolarmente cruento in ogni caso non ci saranno quelli aggravanti che sono riservate da che mondo è mondo ai criminali recidivi quindi Vladimir Putin ha riferito una circostanza inesatta se non proprio menzognera ai giornalisti oppure in alternativa se vogliamo credere alla sua buona fede non sapeva di cosa stesse parlando Putin in ogni caso ha minimizzato affermando che solo lo 0,4% dei detenuti che hanno superato questa prova del fuoco sono tornati a delinquere o sono comunque indagati in relazione a reati compiuti dopo il semestre di servizio presso la Wagner successivamente e cioè qualche giorno dopo Prigojin ha integrato l'intervista di Vladimir Putin affermando che 32.000 ex detenuti erano tornati a casino loro dopo aver prestato i sei mesi di servizio Prigojin ci tiene a far sapere che secondo lui la percentuale di persone ricadute nel reato è relativamente bassa parliamo dello 0,25% e sempre stando a Prigojin risultavano a lui pendenti 83 procedimenti penali nella primavera del 2023 hanno fatto scalpore alcuni casi di omicidio e pedofilia asseritamente perpetrati proprio da ex militari della Wagner ovviamente ex militari della Wagner che erano anche ex detenuti si parla per esempio di un 28enne un certo Ivan Rossomachi o qualcosa del genere che avrebbe eliminato un uomo di 85 anni esclusivamente per derubarlo e poi c'è un certo Damian Kerovichian il quale insieme ad alcuni amici ha deciso di eliminare i due animatori chissà il perché poi ora il punto è che Kerovichian come l'altro suo collega avrebbe dovuto scontare una condanna pari a 18 anni di carcere mentre in realtà grazie alla guerra è uscito con notevole anticipo ora va bene che le carceri russe non sono dei modelli di rieducazione ma quanto è stato saggio fare uscire e lasciare libere queste persone senza fare neanche un minimo di controllo o ordinare che vengano sottoposti alla sorveglianza per un tot numero di anni teoricamente è molto poco perché c'è un'altra notizia di un terzo reato abbastanza grave un altro ex detenuto ed ex della Wagner appena rientrato dal fronte ha fatto delle cose brutte e cattive che non posso citare perché se no il supremo algoritmo si imbippa ma soprattutto mi imbippa a delle ragazzine altri giornali russi riferiscono che una studentessa una ragazza di 16 anni di Safonovo è deceduta per overdose e indovinate un pochino chi gli ha ceduto quella roba brutta e cattiva un ex della Wagner che naturalmente prima di diventare della Wagner era un detenuto il quale appena rientrato dal fronte ha iniziato a fare uso e soprattutto a spacciare quella roba lì quella polverina bianca che non è talco anche se lo sembra e che dà l'allegria quando poi i giornalisti sono riusciti ad accedere alle carte del tribunale si sono resi conto che questo tizio che peraltro si chiama Konstantin Zaykin aveva una lunga sequenza di precedenti e di condanne sia come consumatore di stupefacenti sia come spacciatore nella cittadina di Minchurisk dalle parti dell'oblast di Tambo se ho ben capito un altro ex detenuto che ha prestato servizio nella Wagner si è dedicato ai furti e in quella città da quando è tornato se ne sono verificati tantissimi tant'è che il tribunale ha ritenuto opportuno metterlo ai domiciliari si è poi scoperto che l'imputato nella sua vita precedente era stato condannato almeno tre volte per furto aggravato e frode e in uno di questi casi era stato condannato a sette anni di carcere duro in un altro caso un ex Wagnerita si trova a processo per aver percosso in realtà ha lesionato in maniera abbastanza grave il commesso di un negozio Reo non si capisce bene di cosa ma certamente questo Wagnerita ha preso un tubo di metallo e ha iniziato a percuoterlo colpendolo anche alla testa similmente un altro reato che ha consumato questo ex Wagnerita appena rientrato a casa è stato quello di maltrattare la moglie la quale, caso relativamente raro in Russia ha chiesto di essere protetta dalla polizia e trasferita altrove poi c'è un certo seriogine che a confronto degli altri è un agnellino perché semplicemente si è reso responsabile di tre furti in guida di stato di ebrezza non è dato capire se anche i furti fossero consumati in stato di ebrezza ma tenete presente che per essere arrestati in stato di ebrezza in Russia ce ne vuole visto che praticamente chiunque una bottiglia di vodka alla sera se la scopre poi c'è un certo Yuri Teterin il quale appena rientrato dal fronte ha iniziato a spaccare teste di commessi che servivano in un supermercato insomma potrei andare avanti non dico all'infinito ma per almeno altre 5 o 6 ore elencando ogni singolo caso specifico che i giornalisti russi hanno identificato il dato più interessante e rilevante consiste però nel fatto che sulle statistiche ufficiali e sui siti di informazione delle varie procure e tribunali russi non si parla mai e poi mai di queste persone si parla di altri casi, anche bagatellari, anche di minore rilevanza ma non di queste persone che erano ex militari della Wagner insomma potrei andare avanti non dico all'infinito ma per almeno altre 5 o 6 ore elencando ogni singolo caso specifico che i giornalisti russi hanno identificato il dato più interessante e rilevante consiste però nel fatto che sulle statistiche ufficiali e sui siti di informazione delle varie procure e tribunali russi non si parla mai e poi mai di queste persone si parla di altri casi, anche bagatellari, anche di minore rilevanza ma non di queste persone che erano ex militari della Wagner e sì, lo so, sicuramente qualche figlio di Putin a questo punto dirà qualcosa del tipo ma avvocato stai elencando i reati uno per uno in realtà, secondo i giornalisti, dovrebbero essere circa un centinaio e poca roba rispetto a tutti i reati che vengono consumati in Russia il che, tecnicamente, è certamente vero ma qui stiamo parlando di reati gravi non stiamo parlando della semplice truffa oppure ancora del fatto che sei scappato dal ristorante senza pagare il conto stiamo parlando di persone che mandano sotto terra altre persone e che non si fanno scrupolo a ricorrere alle maniere forti per ottenere tutto ciò che vogliano con evidente danno a carico della popolazione e anche le statistiche sono molto meno indulgenti rispetto a quanto possiate pensare intendo dire noi sappiamo, secondo le stime ufficiali di Vladimir Putin che solo, fra virgolette, lo 0,40% dei detenuti rilasciati è tornato a delinquere ma in realtà questo 0,40% non è distribuito nell'arco di un anno ma di pochissimi mesi man mano che i detenuti tornano a casa molti o perlomeno un numero rilevante di loro inizia a dedicarsi al crimine anche perché, detto fra noi, non è che questi uomini abbiano esattamente un oceano di possibilità davanti a loro no, se tu resti in carcere per un tot numero di anni chiaramente non hai più contatti con il mondo esterno quando vieni rimesso in libertà così, debotto, out of the blue che cosa potrai fare? se hai una famiglia che ti aiuta, magari la sfanghi ma se non ce l'hai, prima o poi, torni a delinquere anche solo per arrivare a fine mese quindi, da una parte Putin ha promesso e anche mantenuto questa promessa di concedere l'amnistia, l'indulto, la cancellazione dei precedenti a tutti i detenuti che hanno servito per la patria ma dall'altra nessuno si preoccupa di reinserire questi detenuti in società tanto più che provengono dal fronte e che quindi, oltre ai problemi pregressi dovrebbe essersi aggiunto anche qualche trauma di tipo nuovo insomma, Vladimir Putin e la federazione russa hanno perso una buona occasione per sistemare quello che non va in patria intendo dire, Vladimir Putin avrebbe potuto offrire tutto questo in cambio di qualche mese di servizio al fronte ma una volta cessato il servizio al fronte sarebbe stato necessario seguire le persone passo passo per garantire un loro reinserimento nella società civile questo invece Vladimir Putin e il governo russo non l'hanno fatto perché probabilmente alla fine della fiera a loro conta semplicemente vincere la guerra non interessa il benessere del proprio popolo e voi che cosa ne pensate? come sempre fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto se poi vi piacciono i miei video ricordatevi di iscrivervi al canale attivare la campanella per essere informati sulle nuove uscite condividerne i contenuti con gli amici e naturalmente iscrivervi a voi costa pochissimo ma vale molto per il canale e la sua community quindi fatelo anche perché se non lo farete in un futuro remoto eventuale assolutamente impossibile potreste ritrovarvi con uno di quei Wagneriti sotto il vostro letto con tante tante cattive intenzioni io vi ho avvisati come sempre grazie di tutto per tutto e a presto